quando arriviamo giù decidiamo anche nel filmino anche nel filmino fatto a casa quella finestra che vedi a specchio che guarda dritto sulla cascata asparago dicesi asparago quello che Fabrizio ha perso anche là c'è una pietraia bella grossa si tutto da sto lato si vede la casa mia tutto crollato da sto lato qua la vecchia frana la new entry di Bolognano l'archeologo onorario Fabrizio Zuccarini to London from Bolognano la il salto è troppo grosso o ci sarà il modo di scendere? sì ma là ci arriviamo senza problemi è sotto che non so com'è il problema? sì allora è allora avete patrione sora 3 1 più 6 10